Non ha voluto più che fosse abitata e quindi diventasse la casa dei ricordi. Voleva realizzare un centro studi, però essendo mancato lui il 3 febbraio del 2006, il suo sogno è stato realizzato invece egregiamente, devo dire, da Domenico Morosini. Io e mio marito abbiamo realizzato questo centro studi e l'abbiamo dedicato a Romano Mussolini e diamo l'opportunità a tutti i giovani che devono dare le tesi di poter attingere a tutto ciò che c'è in questa casa. Ed inoltre metteremo a disposizione agli studenti più meritevoli che presenteranno una tesi sul ventennio una borsa di studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo all'entrata della Villa Mussolini, trasformata in casa-museo. Si trova a 5 km da Forlì, a San Martino in strada e 7-8 km da Predappio. In una casa-museo aperta al pubblico, vi aspettiamo numerosi e noi siamo qui per farvi vedere la storia vera. Grazie a tutti e vi aspettiamo.